Buona domenica 22 settembre. Prima di tutto ringrazio le persone che generosamente hanno partecipato alla realizzazione del seminario di ieri. I relatori, coloro i quali sono stati protagonisti di riflessioni, chi ha ascoltato semplicemente, chi ha saputo realizzare una convivialità particolarmente ricca, ricca di cibo preparato con amore, di grande qualità, che ha messo insieme anche culture diverse, perché nel cibo ci sono anche le espressività delle culture diverse. E tutto questo ha permesso di formulare un'idea, quella di dare uno spazio tematico, un tempo si diceva programmatico, proviamo a immaginarlo progettuale, senza definire una meta, una progettualità ecosistemica, che non ha un luogo nel quale puoi abitare definitivamente, una prospettiva da raggiungere definitivamente, ha semplicemente la necessità di rinescare costantemente il processo evolutivo che ci caratterizza. L'ecologia della cura. Le prossime settimane ci porteranno al congresso dei club ad Abano, che ha un titolo che francamente non mi convince. riappropriarci del futuro, per carità, l'abbiamo già fatto tante volte. Ma questo significa cristallizzare il futuro a partire da un'idea che è semplicemente nostra e che riguarda la nostra vita quotidiana e ci impedisce di vivere intensamente il presente in una prospettiva costantemente liberante. Liberante da che cosa? dal nostro consumismo, dalla nostra tignosità, dalla nostra autoreferenzialità, dal nostro egocentrismo giudicante. Tutte formule che poi finiscono per congelare il futuro o per ipotecarlo, impedendo alle generazioni che verranno dopo di noi di sentirsi liberi relativamente al processo evolutivo al quale apparteniamo. Noi veniamo al mondo attraverso una relazionalità che genera un meticciato indivenire. Viviamo le nostre relazioni, comprese quelle familiari, in un costante divenire non fissabile in una categoria precisa che viene definita impropriamente famiglia naturale. L'inappropriatezza di questa espressione non è solo per il fatto che siamo di fronte a un concetto di famiglia che è storicamente definito, ma se lo rapportiamo alla dimensione della natura, ebbene la famiglia dovrebbe rispecchiare ciò che la natura ha nel suo animo, nel suo logos, nel suo nomos, nella sua economia, un costante processo evolutivo e trasformativo, non fissabile in una entità astratta e definitiva. Quindi liberiamoci di questa appropriazione del futuro. L'abbiamo già fatto fin troppo e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo visto il disastro climatico e che anche in questi giorni ha ferito profondamente la terra, lo sta facendo un po' ovunque e noi siamo disattenti, ma troppo attenti a noi stessi, a contemplare il nostro umbelico. Cresce la violenza, ma non solo nei luoghi di guerra. Cresce la violenza anche nella realtà della vita quotidiana. Ieri scorrendo l'informazione che si può trovare quotidianamente su internet, ti sorprende vedere come tragici eventi che avvengono nella realtà della vita quotidiana ti dovrebbero fare sorbalzare e farti delle domande. Un nipote uccide la nonna con le forbici, la ragione, abbiamo litigato. Un ragazzo soccorre una ragazza che è stata rapinata del suo zaino. rincorre il ladro insieme a un'amica e il ladro reagisce accoltellandoli. Uno dei due giovani muore per un atto di coraggio. Si scoprirà poi che è un moldavo. Una donna spara il proprio figlio e si suicida. Sottolineatura dell'informazione soffriva di disturbi psichiatrici. Dunque c'è lo straniero, c'è il disturbo psichiatrico, c'è la banalità dell'uccidere. Tutto questo richiama ovviamente il sorgere tradizionale degli avvoltoi della politica, stranieri, la malattia mentale, l'accusa nei confronti dei giovani di non aver saputo coltivare i sacri valori della patria e dell'ordine. Loro, politicanti di basso livello, maldestri, che costantemente richiamano la necessità di avere poteri forti e assoluti per porre ordine in questa società. Agiscono male, sono malvaci, sono cinicamente malvaci. Anche chi sta all'opposizione balpetta. Non sa cogliere in questa tragicità la necessità di porre mano alle prospettive attuali, nelle quali ci stiamo dibattendo di fronte al cambiamento climatico, alla guerra, all'appropriazione, alla centralità di una economia che fa dello scarto e del profitto. La sua essenza non è una economia sintonica con la dimensione dell'ecologia. Abbiamo bisogno di pratiche di cura di questo nostro pianeta e del nostro vivere in questo pianeta che ci è stato dato in dono e che, come ho detto prima, sentiamo nostro. Sentiamo essere una parte di noi, ma noi siamo di fatto una parte chiamata a essere umile servitore. Il Vangelo di oggi ci ricorda come chi vuole primeggiare sia ultimo, ma immagino che implicitamente ci dica anche non cercare di essere ultimo per diventare primo, perché questa è la cifra del populismo, dell'ignoranza confusa con una sapienzialità autentica. Quel populismo che richiama alla semplicità, ma che in realtà allude alla necessità di occupare i luoghi del potere. Potere al popolo, potere a nessuno, tutti ugualmente umili, servi della vita su questo pianeta, capaci di contemplare la vita, di viverla intensamente nella dimensione non dell'appropriazione, ma nella dimensione dell'amore di Eros. Quel giovinetto straordinario che giace alle porte delle case e che è figlio di Poros e Penia, l'ho spesso ricordato, ma ce lo dimentichiamo, che ci richiama alla centralità dell'armonizzazione del piacere e del dolore e ci invita a sottrarci al bisogno di un godimento che è stato largamente indotto dalla cultura capitalista. Il seminario di ieri ci ha permesso di riflettere, di meditare, di individuare un percorso attraverso il quale possiamo costituire aree tematiche, progettuali senza meta, ma capaci di vivere intensamente la dimensione del presente. Sarebbe bello che al congresso dei club si ponesse la questione del kairos, di cogliere l'attimo e lì leggere la realtà, leggerla profondamente, senza ricorrere alle categorizzazioni diagnostiche dei manuali statistici diagnostici, i quali si riappropriano del futuro delle persone identificandole con una categoria alcolista, tossicodipendente, psicopatico, schizofrenico, bipolare, affetto da disturbi ossessivi compulsivi, DOC. Tutte sciocchezze, ma sono sciocchezze paludate scientificamente, con relativi rimedi, aggiustamenti, più o meno meccanici della persona negando che tutto questo accada nelle relazioni. Pensare che possa accadere nelle relazioni, almeno questo, non mettere in evidenza sarebbe già più complesso, come tutto accade nelle relazioni. Ecco che allora anche il dubbio che in effetti quella persona sia effettivamente sbagliata, deve essere costantemente stemperato e annullato da questo desiderio profondo di ricerca. Dunque, il seminario di ieri ci suggerisce una costituzione di un'ecologia della cura, delle pratiche di cura, attraverso la individuazione anche di forme organizzative funzionali, centri studi, di ricerca, di approfondimento, di realizzazione di pratiche di cura all'insegna dell'ecologia. Se noi leggiamo la sintomatologia in termini di visione ecologica, ebbè cambia la prospettiva. Si facilita culturalmente l'accettazione da parte di tutti e di tutte che quando vi è un sintomo, o si mandano le persone a farsi riparare da qualche parte o da mani esperte, le mani esperte vengono chiamate semplicemente a porsi al servizio, farsi ultimi, non per primeggiare, ma semplicemente per facilitare i percorsi ecologici. Se facilitiamo questa dimensione culturale sarà molto semplice di fronte a una sintomatologia espressa dire alle persone senza per questo colpevolizzarle o se farle sentire colpevoli. Venite insieme, insieme mettiamoci radicalmente in discussione, reimpariamo a contemplare la vita, sì, reimpariamo, perché il venire al mondo, gettare lo sguardo fin dall'inizio a ciò che ci circonda, è una costante esplorazione, inconsapevole, ma non meno importante rispetto a quando avremo una consapevolezza il più delle volte viziata da un pregiudizio di visione, la visione autoreferenziale e individualista che costruiamo culturalmente e che molto spesso è decisamente contro le dinamiche evolutive della natura stessa. Riscopriamoci natura, riscopriamoci disponibili ad abbandonare qualsiasi prospettiva di potere per vivere semplicemente nella dimensione del servizio, fecondo e creativo, il quale ci orienta e questo orientamento poi trova in noi la dimensione etica, il senso profondo di responsabilità rispetto a ciò che accade, senza presumere che questa nostra responsabilità possa rappresentare la costituzione di un ordine fatto a nostra immagine e somiglianza. C'è invece in questa prospettiva osservante la disponibilità a farci trasformare, a farci mettere radicalmente in discussione. Tutto questo facilita sicuramente la realtà dei club e i quali devono essere un pochino più disponibili a realizzare dei programmi cooperanti con tutti gli altri soggetti che costituiscono la comunità. Ieri abbiamo parlato delle case della salute, della case della comunità, ma evitiamo il rischio che tutto questo si trasformi in una organizzazione meccanica ingegneristica della vita. C'è bisogno di un'ecologia della comunità relativamente alle pratiche di cura, ma questo si può realizzare solo se c'è una disponibilità appunto a farsi ultimi, mettersi al servizio di questo processo evolutivo che non prevede margini di profitto, ma investimenti capaci di autotutelare, autopromuovere la salute. C'è un grande bisogno anche di fronte a questi episodi tragici di violenza. Vedete, la violenza, la malvagità, l'agire e il male va dalla realtà quotidiana, dalle relazioni anche più intime e interpersonali, fino agli scenari di guerra. Vi è una continuità, eppure noi continuiamo a categorizzare, a porre dei distinguere, dei distinguo senza entrare nel merito delle radici profonde della malvagità di agire il male. Se ci facciamo ultimi, ci facciamo testimoni di benevolenza, di volere il bene, questo ci pacifica relazionalmente e ci pacifica anche e soprattutto per quanto riguarda la dimensione dell'esplorazione e la contemplazione della vita. È un percorso lungo, difficile, ma appassionante, creativo e soprattutto disponibile alla trascendenza da noi stessi. È uno dei nodi critici attraverso i quali possiamo affrontare il tema più significativo per quanto riguarda il disagio esistenziale del nostro tempo e di tutti i tempi che ci hanno preceduto. Dunque, liberiamo il futuro dalla nostra presenza egocentrica ed egolatrica. Non costituiamo un Dio a nostra immagine e somiglianza, ma facciamo riverberare in noi un Dio che è nella dimensione dell'umiltà, della misericordia e dell'amore, che concretamente si esprime nella relazionalità. Tra noi esseri umani è il creato, quella relazionalità che pacifica l'esistenza, che sa ascoltare la saggezza del creato che riverberando in noi ci permette di vivere anche nei momenti di sofferenza e di dolore. Il piacere dell'incontro con il prossimo è l'amore che lenisce la sofferenza e ci trasporta verso quella dimensione erotica che è il fare. L'amore nella prospettiva poetica concreta. Farlo nella pienezza dell'umiltà, del farsi ultimi e della condivisione, la quale ci permette di vivere in piena sicurezza nella trascendenza. Sicurezza in qualche maniera implica un curarsi di sé, un riportarsi a se stessi scoprendo che ciò che ci rasserena e ci pacifica è proprio andando oltre noi stessi, facendo una forzatura rispetto alla cultura dominante, facendoci protagonisti di una cultura nuova, l'ecologia della cura, l'ecologia delle pratiche di cura, che hanno un significato profondamente liberante anche relativamente alle prospettive future, vivere il presente smettendo di ipotecare il futuro e di desiderare di riappropriarcene. Non siamo padroni del mondo e tantomeno del futuro che sarà abitato da chi verrà dopo di noi. Buona giornata a tutte e a tutti.